E' finito in carcere un pregiudicato 25 anni di Bitonto con l'accusa di essere responsabile di rapina aggravata e lesioni personali. Come mostrano le immagini raccolte dai poliziotti del commissariato che hanno proceduto alle indagini, l'uomo travisato e armato fece irruzione in un supermercato della città lo scorso 14 agosto. Puntò la pistola verso il dipendente in casso e gli intimò di farsi consegnare l'incasso, ma la reticenza del cassiere portò il malvivente a colpirlo più volte alla testa con il calcio della pistola, ferendolo. A quel punto, tentando di portare via il cassetto con l'incasso, perse l'equilibrio, cadde per terra e l'addetto del supermercato riuscì a difendersi dal rapinatore mettendolo in fuga. Pochi attimi concitati e pieni di violenza che però non sono sfuggiti agli occhi elettronici delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale che hanno immortalato per brevi istanti il volto del colpevole durante la colluttazione con il dipendente. Tutto è stato suffragato dalle accurate indagini svolte dagli agenti della squadra investigativa del commissariato di Bitonto che hanno identificato in poche ore il colpevole. La polizia giudiziaria ha pertanto proposto un provvedimento cautelare personale a carico del 25enne e la procura, valutato positivamente l'esito delle indagini, ha ottenuto in pochi mesi la misura cautelare. L'indagato ora è in carcere a baria disposizione dell'autorità giudiziaria.